Rocco prende il pacco delle mattatine e lo butta a terra, il ragazzo gli tira uno schiaffo e Rocco gli dice lo sai che ho visto tua sorella con Carmelo Sfrollo? Carmelo Sfrollo è conosciuto come il mattarello preferito dalle casalizie il ragazzo decide di vendicarsi, diventa uno stalker, ma uno stalker molto strano dove vai lui? C'è già lui dove arrivi tu? Arriva prima lui, è uno stalker di piantissima alla fine è lui che ti chiede i dati perché sei tu che lo stai superando e poi bravissimo nei travestimenti Rocco va a giocare a calcetto, lo stalker si traveste l'arbitro Rocco va alla pizzeria Lasugna Vegana lo stalker si traveste la sugna Rocco va a night flair a fessa la sorella Rocco va a giocare a calcetto, lo stalker si traveste la sorella Rocco va a giocare a calcetto, lo stalker si traveste la sorella